Rintracciare chi manda i codici è impossibile, come fai? Perché ce l'hanno tutti, dovresti mettere a guardare le chat di tutte le persone che hanno il codice e tra l'altro queste nostre chat che abbiamo, anche questo gruppo, sembrano una minchiata, ma in realtà è una conversazione privata a cui soltanto noi abbiamo accesso, quindi la polizia postale per richiedere queste conversazioni deve fare capolino a Telegram che non ha proprio sede in Italia, diciamo.